Ritornare al passato in chiave moderna, riproporre i cibi di una volta, quelli semplici e sani e rivisitarli in chiave stellata per proporre le proprietà di ogni alimento. Si chiama Healing Chef, la cucina che aiuta a guarire. Un progetto nato grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche. L'alimentazione innanzitutto deve essere equilibrata e non deve essere eccessivamente ricca di una sola componente come per esempio la carne, le proteine oppure eccessivamente i carboidrati semplici. Deve contenere un po' tutte le componenti. Noi in questo corso stiamo dando agli chef nozioni sia di composizione di questi alimenti sia anche di contenuti di particolari sostanze che possono essere favorevoli. Le patate contengono, se cucinati in una certa maniera non perdono neanche queste caratteristiche, contengono delle sostanze di tipo benzodiazepinico, cioè sostanze che sono dotate di effetti ansiolitici, quindi possono benissimo essere usate per curare l'ansia. Oppure proteine del latte, la caseina che ha effetti di tipo antidepressivo. Il pistacchio per esempio è dotato di effetti benefici per la terapia dell'ipertensione. Questo percorso terapeutico è di grande utilità per migliorare l'effetto terapeutico di alcune terapie. Creazioni gastronomiche realizzate con ingredienti dotati di particolari proprietà curative per patologie del sistema cardiovascolare, patologie neuropsichiatriche e disturbi del comportamento alimentare. La voglia che ha il mondo della ristorazione siciliana è di andare oltre, di poter capire, non soltanto di offrirci dei cibi che siano salutistici, la scommessa è quella di poter dare anche delle soluzioni, quindi dei cibi che siano terapeutici in alcune circostanze. Quindi affidiamoci oggi agli chef della cucina siciliana. Un percorso che non era come quello appunto dalla preistoria ai giorni nostri, perché se facciamo riferimento anche a Ippocrate, a Galeno, fino ad arrivare ai nostri giorni, questo diventa un percorso completo. Grazie